ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi bel video uno di quei video ragazzi che a me piacciono tanto perché perché racchiudono tante tecnologie il fotovoltaico l'eolico perciò le energie alternative l'accumulo l'elettronica comunque in generale e l'elettricità che il fondamento di tutto il progetto di tutta l'idea ora ragazzi in questo video parleremo di una mia idea che ho sempre avuto e so che tanti di voi non sono da meno perché perché sia su qui su youtube che su facebook anche qualcuno tramite mail in questi mesi in questi anni e mi ha chiesto ciao fox ma come posso fare io per rendere la mia casa più o meno autonoma e per risparmiare più energia dall'ente fornitone energetico sia per quanto riguarda l'elettricità ovviamente ma anche per quanto riguarda i fornelli il riscaldamento ragazzi questo video io lo faccio perché perché credo che oggi con la tecnologia che abbiamo nel concreto noi possiamo davvero andare a creare impianti più o meno fai da te però fatti bene funzionali e che ci permettano di essere autonomi autonomi perché ragazzi perché una volta c'erano gli accumulatori come ci sono anche oggi però erano accumulatori di prestazioni efficienza stabilità non come quelli di oggi oggi grande grazie all'era dell'idio ragazzi abbiamo gruppi di accumulo che sono molto molto compatti ma hanno prestazioni da capogiro perciò il cuore del progetto sarà sempre un gruppo di accumulo perché ragazzi il problema non è tanto generare energia che poi nel concreto come vedremo lo è perché non è semplicissimo generare energia elettrica però nello stesso tempo dal momento in cui noi andiamo a generare energia elettrica dobbiamo obbligatoriamente accumularla per poi utilizzarla nel corso del tempo che sia mezza giornata che sia una giornata mettiamo il caso che siamo in pieno inverno il sole non è chissà cosa o non c'è chissà che vento e perciò abbiamo problemi nel diciamo immagazzinarci l'energia elettrica che ci serve perciò ci servono scorte ragazzi scorte di energia elettrica le scorte noi le facciamo dove dentro i pacchi batterie oggi perciò iniziamo pacco batterie è uno dei componenti di questo progetto per andare a progettare un'abitazione eco sostenibile senza bollette tra parentesi che però ovviamente necessita di un investimento più o meno oneroso in base poi ovviamente a cosa andiamo ad acquistare a montare ci sarà sempre quello che dice io non vado a spese acquisto il top perciò spendo di più ma c'è anche quello che dice io non ho grandi margini non ho budget infiniti più posso risparmiare meglio e c'è anche quello ragazzi che ha pochissimo margine bassissimo budget da spendere perciò anche lì ragazzi e c'è da organizzarsi al meglio e dimmi se questi video ti piacciono scrivimelo sotto lasciamo un like pacco batterie oggi la tecnologia che io posso consigliare qual è la tecnologia ragazzi del presente e del futuro litio litio è una grande grandissima famiglia si suddivide però in tante diciamo sotto categorie modelli differenti c'è la litio ioni che quello utilizzata nella micro mobilità e nei pacchi batterie delle auto vetture c'è l'ife più 4 anch'essa utilizzata in auto elettriche però non tutte le auto elettriche perché la maggior parte circa il 90 per cento montano litio ioni l'ife più 4 viene più utilizzate nei mezzi grossi cioè tir e treni navi crociere sottomarini dove lo spazio c'è ed è abbondante dove si deve stare attenti anche per una questione di sicurezza per quanto riguarda il litio ragazzi è un materiale infiammabile queste tecnologie di litio sono più o meno infiammabili la più infiammabile di tutti è il litio ioni la più pericolosa ecco poi l'ife più 4 è meno pericolosa e poi abbiamo lto e lto è un'altra chimica che diciamo si può sfruttare per accumulare energia elettrica lto dove si utilizza oggi si utilizza ragazzi negli ultimi mesi forse nell'ultimo annetto sta crescendo tantissimo negli impianti car audio i ragazzi cosa fanno costruiscono grossi pacchi batterie con celle lto per andare ad alimentare impianti audio amplificatori per subwoofer twitter medi che abbiano correnti ragazzi altissime perché nel car audio cosa serve servono pacchi batterie che ti diano spunti di corrente elevatissime parliamo anche di 1000 1500 forse anche 2000 ampere come corrente di impulso perché ragazzi perché gli amplificatori che poi vanno a pilotare i subwoofer eccetera eccetera sono molto dinamici ad ogni colpo di basso per esempio il l'amplificatore dovrà consumare energia elettrica che va a trasferire all'altoparlante ma comunque io vi sto facendo un quadro generale per farvi capire le tecnologie di pacchi batterie oltre a questo pacco batterie cosa servirà servirà un regolatore di carica sempre scelto in base alla tecnologia di batteria di cella che andiamo ad adottare servirà anche un bms ovviamente il bms cos'è è quell'apparato elettronico che mi andrà a bilanciare il mio pacco batterie può essere un pacco batterie ragazzi da 12 volt 24 volt 48 volt eccetera 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 in base alle nostre esigenze in base al nostro progetto noi possiamo diciamo ho in questo momento teorizzare un 48 volt perciò andiamo a creare un impianto 48 volt perfetto il regolatore dovrà essere da 48 volt la bms da 48 volt il pacco batterie dovrà essere assemblato in maniera tale da andare ad avere un 48 volt può essere per esempio un 13 s nel caso in cui si utilizzano celle litio ioni nel caso in cui si utilizzano le altre tecnologie avranno più celle in serie perché perché il voltaggio della singola cella è minore comunque andiamo avanti il prossimo componente cos'è inverter l'inverter trasformerà l'energia stoccata dentro al pacco batterie o il pacco i pacchi batterie perché ragazzi potranno essere anche più di uno potranno essere installati in maniera diciamo sistematica e modulare cioè parallelati tutti a 48 volt così da andare ad aumentare la capacità dell'impianto oltre quello abbiamo detto l'inverter anche questo scelto in base al voltaggio diciamo di funzionamento tutto l'impianto 48 volt poi come andiamo a questo punto a generare elettricità energia elettrica ragazzi le scelte sono tantissime innanzitutto è da visionare da valutare la posizione dell'appartamento se hai spazio per mettere del fotovoltaico sul tetto bene se hai del terreno fai un bel campo fotovoltaico più o meno grande se purtroppo non hai spazio per i pannelli solari è già un problemuccio però però si potrebbe andare a buttare per dei generatori idroelettrici se per esempio vicino casa hai un roscelletto o il vento pale e oliche una due tre in base a quanto potenza si ti serve quanta energia elettrica devi andare a produrre per ricaricare il tuo pacco batterie ragazzi per come la vedo io l'impianto fatto bene è ovviamente e se c'è la possibilità dovrebbe sfruttare tutte le energie alternative cioè un piccolo idroelettrico più un piccolo eolico più un bel impianto fotovoltaico tutti e tre insieme andranno a mantenere sempre a buona carica a buon livello il nostro pacco batterie perché ragazzi si ritorna al discorso che facevamo prima se una giornata non ho sole io non posso caricare le mie batterie perciò andrò a consumare energia e metti il tela televisione metti riscaldamenti se li ho elettrici metti la qualsiasi cosa che sia elettrica e andrò a scaricare ma non ricaricare perché se non c'è abbastanza sole io ricarico forse meno di quello che no ho sicuramente meno di quello che consumo detto questo cosa viene in aiuto la tecnologia modulare cioè non funziona al 100 per cento il fotovoltaico nessun problema in parallelo ho un generatore eolico che mi funziona col vento se è una zona ben esposta ventosa l'eolico andrà a generare energia elettrica che mi permetterà di implementare energia dentro le batterie nello stesso tempo se ho modo di installare un piccolo vidro elettrico ragazzi io caricherò le batterie sia con quello che con quell'altro quando poi esce il sole i pannelli solari entrano ragazzi al regime e avrò tutto tutte e tre in parallelo che mi pulsano energia elettrica dentro le batterie batterie che possono essere sia centralizzate che dislocate diciamo con regolatori differenziati cioè fare più pacchi batterie con il loro regolatore di carica però tutti poi facendo parte all'impianto generico come anche gli inverter puoi mettere un inverter come ne puoi anche mettere due tutto sta ovviamente dai kilowatt che poi il tuo impianto deve sopportare se poi deve andare a ricaricare anche l'auto è normale che in quel caso io consiglio sempre di numero uno abbondare ragazzi abbondiamo sia come impianto di produzione e cioè l'energia alternative che come impianto di accumulo perché ragazzi quando dobbiamo andare a ricaricare un auto noi cosa facciamo trasferiamo l'energia elettrica dalle nostre batterie di casa ok alle nostre batterie della vettura cosa ancora migliore potrebbe essere di fare una ricarica e durante il giorno se il nostro fotovoltaico produce bene esistono degli inverter che hanno delle app che ti dicono in tempo reale cosa stai producendo cosa stai consumando perciò in linea generale fatto sempre un buon impianto fotovoltaico utilizzando sempre moduli di buona qualità anche sui moduli ragazzi potremmo parlare ore 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 e dimmi se questi video ti piacciono scrivimelo sotto lasciamo un like e prossimamente potremo continuare il discorso andando nello specifico per come scegliere il fotovoltaico come scegliere l'idro elettrico quali ci sono anche per quanto riguarda l'eolico quale scegliere e poi tante altre discussioni che potremmo andare a fare anche magari in una diretta live niente ragazzi per questo video è tutto già siamo arrivati a ben 15 minuti circa 14 qualcosa io ti ringrazio per la visione ripeto like commenta fammi sapere se ti è piaciuto e ciao e al prossimo video anzi aspetto un attimo ti invito ad iscriverti al mio canale telegram se vuoi studiare la tecnologia litio delle batterie litio sappi io due corsi online e due corsi dove ti spiego come andare a costruire pacchi batterie che in questi progetti sono molto molto importanti batteri maker è uno power wall maker è il secondo ragazzi grazie per la visione ciao e al prossimo video